Ora puoi sfruttare i molteplici vantaggi di questa piccola radio CV. La radio sta nel palmo della mano, è simile a un walkie-talkie, e può essere utilizzata con una sola mano senza problemi. Le dimensioni ridotte consentono di posizionarla nel bracciolo o in qualsiasi altro spazio stretto all'interno della sua auto. Il display della radio visualizza il numero canale corrente, il livello di trasmissione e di ricezione, la banda selezionata e le funzioni attive. Sebbene abbia dimensioni ridotte, la PNI MR999 è dotata di tante funzioni, scansione canali, dual watch, blocco tasti, canali di emergenza, ASQ, last channel recall e tanti altri. Per coloro che utilizzano diverse bande di comunicazione utilizzate in altri paesi europei, la radio è dotata della possibilità di modificare la norma in corrispondenza di ciascun paese. La radio PNI MR999 PRO può essere utilizzata sia con un'antenna esterna collocata sulla cupola dell'auto o fuori dalla macchina. Con le batterie è un'antenna BNC. Il jack BNC consente di collegare una piccola antena solo per utilizzare la radio in campo aperto. La radio dispone anche di un connettore per il collegamento di auricolari con microfono. La MR999 PRO ha un adattatore per antena e la presa accendisigari, utile per quando la radio viene utilizzata nella macchina, quindi si alimenta a 12V. Può altrettanto utilizzare la radio con delle batterie, 6 batterie AA e con un'antenna BNC, per le situazioni quando porta la radio fuori dalla macchina, in parcheggi o altri settori all'aperto. Grazie a tutti i nostri spettatori e a tutti i nostri spettatori.